Il primo argomento vero e proprio della nostra puntata di questo giovedì 16 ottobre, un argomento che è sulle prime pagine da diversi giorni, ormai da settimane e che allarma tutto il mondo. Stiamo parlando infatti dell'allarme da Ebola, tra l'altro un allarme che ormai ha assunto toni da vera e propria psicosi, anche se forse, ed è quello che tenteremo di capire questa mattina, forse questa psicosi è tutt'altro che giustificata. L'ultimo episodio arriva da Brescia. Arriva da Brescia. Martedì sera si è diffusa la notizia all'interno dell'ospedale di Brescia di un paziente che presentava alcuni sintomi che potevano essere riconducibili all'Ebola. Naturalmente, come è giusto, sono state prese tutte le misure necessarie per fare in modo, in caso al rischio si fosse verificato reale che non venissero contagiati altre paziente o persone che lavorano all'interno dell'ospedale. Per fortuna si trattava soltanto un caso di malaria, ma questo ha scatenato un vero e proprio fuggi-fuggi generale, una paura, un terrore all'interno dell'ospedale di Brescia. Intanto a Fiumicino c'è stato un falso allarme, un atterraggio d'emergenza, si pensava appunto a un problema di questo tipo. Sarebbero 9.000 i contagiati in tutto il mondo, si è registrato il primo morto in Germania, a New York, riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Washington pensa a un super ministro, intanto c'è chi ha donato parecchi soldi come il leader, il capo di Facebook, Zuckerberg, che ha donato ben 25 milioni di dollari. Ci sono brutte notizie per quanto riguarda più da vicino Cremona, perché si sono registrati i primi decessi nel distretto africano dove operano i saveriani cremonesi, in Sierra Leone. Padre Vittorio Bongiovanni ha detto, coi musulmani preghiamo perché finisca questo flagello. E a proposito di psicosi della popolazione, uno dei motivi per cui c'è tanta preoccupazione in questo momento in Italia, è che quando arriverà l'allarme influenza come ogni anno, i sintomi non possano scatenare un vero terrore generale, perché l'influenza di quest'anno pare avrà sintomi molto simili all'ebola. Allora noi abbiamo pensato di collegarci con qualcuno che ne sa molto più di noi. Ci colleghiamo infatti con la dottoressa Daria Sacchini, che è il primario del riparto malattie infettive dell'ospedale di Piacenza. Dottoressa Sacchini, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Grazie per la sua disponibilità e gentilezza. Allora, ovviamente tutti i giorni ne sentiamo parlare, ci sarà anche, mi dicevo, una conference call con Obama che ha chiamato tutta una serie di esperti a livello mondiale per tentare di capire un po' come affrontare questa emergenza. È giustificato tutto questo timore? Ma il timore è giustificato in questo senso che nei paesi dove realmente esiste il problema devono assolutamente riuscire a contenere il contagio perché altrimenti effettivamente potrebbe verificarsi una diffusione anche altrove. Ma per adesso da noi non ci deve essere terrore, nel senso che comunque le procedure emanate dal nostro Ministero sono assolutamente rassicuranti. Immagino che qui non sarebbe successo quello che è accaduto in America con gli infermieri che hanno assistito il caso di un paziente, un caso accertato, non un caso sospetto. Se poi i contatti stretti, come possono certamente essere identificati gli operatori sanitari, manifestano dei sintomi, il nostro protocollo prevede che rimangano ricoverati per 21 giorni e nei reparti di malattie infettive. Per cui adesso io non so esattamente come siano andate le cose in America né quali siano i loro protocolli. Posso soltanto dire che ho sentito prima il discorso che lei faceva rispetto all'influenza, ma per il momento la cosa fondamentale, principale, sono i sintomi, ma è la provenienza geografica, nel senso che le aree affette per il momento sono tre, sono la Sierra Leone, sono la Liberia e la Guinea. Quello effettivamente se un paziente o un operatore sanitario reduce da uno di questi paesi l'allerta deve essere massima, ma in tutti gli altri casi, adesso ci sono già stati dei casi di persone che hanno avuto delle persone di colore, che hanno avuto delle manifestazioni che sono stati male, intanto che erano in coda nell'ufficio immigrati e anche lì è scattato l'allarme, li hanno ricoverati al sacco. Adesso effettivamente la psicosi c'è, ma è assolutamente per adesso, per noi, per fortuna, nei nostri paesi è ingiustificata. Certo, quindi stiamo calmi, ci sono protocolli seri che vengono applicati seriamente da tutti gli operatori sanitari, quindi almeno in Italia, comunque penso di poter dire in tutta Europa, insomma la situazione è assolutamente sotto controllo. Certo, sotto controllo e soprattutto ci stiamo anche attrezzando, tutte le aziende stanno facendo esercitare i loro operatori sanitari al corretto utilizzo dei DPI, dei dispositivi di protezione individuale che sono quelli che ti proteggono dal contagio, perché purtroppo questa malattia si trasmette anche per contatto, quindi anche la saliva, oltre che altri liquidi biologici come il sangue, le urine, le feci eccetera, possono contenere il virus, ovviamente nella fase viremica, fase viremica che cosa vuol dire? Vuol dire solo nella fase in cui il paziente è ammalato quando ha già i sintomi e mettere insieme i sintomi e provenienza dell'area geografica è una cosa abbastanza semplice, quindi si può correre subito ai ripari, quindi non ci deve essere tutto questo allarmismo. Non è che ogni volta che una persona di colore fa qualche sintomo adesso si fa solo questa equazione, ma non è così. Perfetto, dottoressa Sacchini, la ringraziamo molto per la sua disponibilità, grazie e buon lavoro. E diamo il benvenuto. Salutiamo il primario dunque del reparto malattie effettive dell'ospedale di Piacenza e a questo punto... Diamo il benvenuto alla dottoressa Vanna Bianchini del gruppo articolo 32. Mi avvicino a lei, dottoressa, per parlare di che cos'è il gruppo articolo 32 e di cosa si occupa. In particolare siamo ancora nel campo dell'assistenza sanitaria agli immigrati. Esatto. Voi avete già avuto qualche sentore, qualche paura, qualche... No, non abbiamo avuto paura. Intanto presento l'associazione brevemente per capire che cosa facciamo. è un'associazione di volontariato, ONLUS, che si è costituita nel 2010 con lo scopo di fornire assistenza sanitaria di base, inizialmente poi più completa, alle persone senza diritto all'assistenza da parte del sistema sanitario nazionale, che sono in massima parte effettivamente immigrati. Poi c'è anche qualche italiano che la crisi ha ridotto in condizioni di perdere la residenza, quindi il medico di base, eccetera, però la maggior parte dei nostri pazienti sono immigrati e facciamo degli ambulatori, due ambulatori settimanali nella nostra sede dove vediamo questi pazienti che vengono, li rivediamo, è un grosso numero di pazienti, soprattutto un grosso numero di accessi perché molti pazienti tornano più volte. Quindi abbiamo senz'altro qualcosa da dire su Ebola e siamo sette medici più altri volontari, sette medici che ruotiamo in questi ambulatori. Sono gli ambulatori due? Sono due settimanali di due ore e fanno parte tra l'altro di questi nostri sette medici quattro colleghi che operano al pronto soccorso dell'ospedale di Cremona, quindi particolarmente non solo esposti a eventuali casi o sospetti di Ebola, ma anche esperti, ben consapevoli di quello che questo può voler dire. Tornando ai nostri pazienti non abbiamo avuto assolutamente nessun sospetto, devo dire però che l'ASL, molto giustamente, all'inizio dell'estate si è attivata, abbiamo fatto una riunione con noi, col dottor Pan, primario delle malattie infettive di Cremona e con medici ASL per mettere appunto un protocollo, sebbene molto di massima, perché non c'era ancora nessun tipo di allarme come non c'è oggi a Cremona, in modo che qualunque paziente venisse visto in pronto soccorso con un sospetto, peraltro l'abbiamo detto, i sintomi sono estremamente specifici, febbre, dolore alle ossa, mal di gola, mal di testa, assolutamente simili a quelli di molte altre virosi innocenti e giustamente lei ha citato l'influenza che ha le porte e che procurerà un pochino di qualche scosso, ma dicevo, quindi su segnalazione del pronto soccorso questi pazienti con sospetto sarebbero stati visti immediatamente dagli infettivologi del nostro ospedale, ebbene non c'è stato nessuno di questi pazienti che abbia presentato nessunissimo sintomo, abbiamo avuto due casi di malaria e anche la malaria avendo febbre a volte può essere inizialmente. Come è successo proprio in questo caso di Brescia che abbiamo presentato poco fa. Esatto, che però sono stati visti malattie infettive e non c'è stato nessuno. Quindi confermo che dagli immigrati a Cremona non c'è stato nessun, non solo nessun caso, come tutti sappiamo, ma neanche il minimo sospetto di infezione da Ebola. Ecco, parlando della vostra associazione, articolo 32, il nome da dove arriva? Il nome arriva naturalmente dall'articolo 32 della nostra Costituzione che sancisce il diritto alla salute di tutti gli individui, quindi non i cittadini, ma gli individui presenti, si intende, sul territorio nazionale. Questa è rimasta molto sulla carta con l'inizio dell'immigrazione perché questi immigrati in realtà non avevano possibilità di accesso al Servizio Sanitario Nazionale e quindi erano completamente scoperti dal punto di vista dell'assistenza medica di base. Ecco, quello che mi piacerebbe anche sapere è come vive questa associazione perché voi prestate volontariamente la vostra conoscenza, la vostra preparazione, la vostra professionalità, però avrete bisogno di farmaci, avrete bisogno di strutture. Natural, naturale. Allora, devo dire con molta prontezza sia l'ASL che l'ospedale hanno stabilito un protocollo di intesa, un accordo nel 2012 con noi, all'inizio del 2012 e abbiamo una fornitura di farmaci diretti dall'ASL su nostra richiesta, è un pool di farmaci concordato naturalmente ma molto ampio e poi abbiamo la possibilità di ricettare le prestazioni sia radiologiche che di laboratorio che visite specialistiche, quindi di secondo livello e quindi portare avanti un interdiagnostico di tutto rispetto come per qualsiasi altro cittadino. A questo punto torniamo però proprio a questa sorta di psicosi che si è scatenata davanti a questo problema ebola che peraltro è un problema appunto che è stato in qualche modo amplificato e che ha messo un po' in ombra problemi e malattie infettive ben più presenti e ben più gravi. Vedevo anche un grafico di recente, per esempio se confrontato alla presenza dell'ebola in Africa con banalmente l'AIDS invece presente in Africa, beh non c'è confronto, non è possibile perché l'AIDS è molto 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 più presente e quindi da quel punto di vista senz'altro si va un po' anche a ondate mediologiche. A questo punto però noi tentiamo di capire in realtà tra la gente come viene percepito questo problema e allora siamo andati in piazza con Eleonora Busi. Lei mi sa dire cos'è l'ebola? L'ebola è una malattia infettiva altamente pericolosa che per fortuna da noi pare non sia ancora arrivata, interessa credo i paesi africani e speriamo non arrivi perché è mortale. I giornali stanno titolando che ci sono dei contagiati anche in Germania e una persona è deceduta, quindi si sta avvicinando all'Italia. Come dovremmo rispondere noi italiani a ciò? Alzando il più possibile tutte le verifiche e controlli soprattutto alle frontiere, soprattutto con questa immigrazione di massa che aumenta notevolmente il pericolo di contagio. No, l'ho sentito in televisione, l'ho letto sui giornali e via da lì chiuso, basta, finito. I media, secondo lei, come dovrebbero agire in questo caso? Dovrebbero calmare la popolazione o metterla in allerta? Diciamo che i media, come in tutte le situazioni come questa, svolgono un ruolo importantissimo. Come diceva lei, sicuramente c'è questa doppia valenza. Da una parte calmare e non drammatizzare per spaventare troppo, ma informare sui reali problemi che questo contagio potrebbe dare. Credo in modo radicalmente diverso da quanto stiano facendo ora, nel senso che secondo me, non voglio fare il complottista, però la componente proprio adesso che è finita Mare Nostrum, come iniziatamos majorum, quindi un nuovo modo totalmente e radicalmente opposto di trattare le nostre frontiere e anche i flussi migratori che arrivano dal Nord Africa, credo lo si stia usando un po' come pretesto per calcare la mano sulla nuova politica comune dell'Unione Europea, molto più restrittiva. Non ci penso, non mi preoccupo, non approfondisco il tutto, anche perché se sarà il momento ci penserò, altrimenti no, non riesco a farmene. Ho talmente tante preoccupazioni per altre cose che ci circondano adesso che sinceramente l'ebola è l'ultimo dei miei pensieri e poi magari sarò anche la prima vittima italiana e mi leccherò le ferite. Voi avete notato qualche differenza nelle persone nei vostri confronti visto che arriva dall'Africa questa malattia? Assolutamente, finora non ancora, perché noi viviamo qui da parecchio e la gente credo che si vede che viviamo qui da parecchio. Secondo lei ci sono dei rischi forti per l'Italia in questo momento? Ma in questo momento non mi sembra che sia così allarmante la situazione, certo, penso che vada tenuta sotto controllo. I turisti, diciamo, sta colpendo. Chi si sposta dall'Africa viene da noi, deve essere controllato per la sicurezza di tutti. Lei sa cos'è l'ebola? L'ebola noi sicuramente è una malattia che esistava in Africa un bel tempo, però si sente che sta abbassando tanta gente, è anche arrivato proprio sull'Europa, però noi vogliamo avere un favore all'Europa, se c'è possibilità di aiutare anche in Africa, perché le povere gente che morano e non c'è possibilità di medicina, le cose, perché è una malattia che può arrivare anche qui da voi. Vabbè, dai, devo dire che cittadini informati e consapevoli e tutto sommato anche pronti insomma a calmare un po' gli animi e a non dare spazio a questa sorta di psicosi montata negli ultimi giorni. Dottoressa Bianchini, allora dicevamo l'articolo 32 che si ispira la vostra associazione alla Costituzione, ma a questo punto voi, come si diceva, mirate ad offrire assistenza sanitaria anche a chi non ne ha diritto. In qualche caso, diciamo, è stato sollevato qualche protesta, qualche polemica, perché si dice, insomma, tanti stranieri che vanno a intasare i nostri ambulatori medici, i nostri pronto soccorso, voi come in qualche modo reagite di fronte a queste critiche? Questo, prima di tutto, è stato vero, cioè questo è vero perché non avendo assistenza di base, l'unico modo per loro di ricevere una risposta ai loro bisogni sanitari era di andare in pronto soccorso anche se non c'era l'urgenza, quindi travalicando la logica di accesso in pronto soccorso. Questo noi abbiamo, sicuramente in questo noi abbiamo migliorato la situazione proprio fornendo questa assistenza che ha tolto la necessità del pronto soccorso. Sicuramente c'è pieno di pregiudizi riguardo agli immigrati, molti sono, ecco, io quello che voglio dire, e mi sembra giusto dirlo anche in risposta ai cittadini che hanno parlato, prima di tutto la dottoressa Sacchini già ha evidenziato che è molto importante la provenienza, sono tre paesi quelli ora interessati dall'epidemia che hanno pochissima immigrazione in Italia ma anche a Cremona molto poca o quasi nulla, mentre invece abbiamo pazienti provenienti dalla Nigeria e anche in Nigeria ci sono stati casi, però adesso proprio fra quattro giorni l'OMS toglierà l'allarme Ebola per quanto riguarda la Nigeria perché sono passati 42 giorni, cioè il doppio dei 21 giorni che sono il massimo del periodo di incubazione senza che ci siano nuovi casi, quindi insomma, ecco, un po' tranquillizzante perché quei tre paesi lì, è vero, ce l'hanno molto estesa, ma ci sono anche altri paesi africani che possono essere. Ok, perfetto, grazie, allora le chiediamo insieme a tutti i nostri telespettatori di pazientare qualche istante, una breve pausa e poi di nuovo qui con altri ospiti. Grazie. 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 Grazie.